Allora noi siamo ben consapevoli, avendo poi dialogato anche col municipio, di tutto quello che è stato fatto. È vero, i lavori sono stati completati. Qual è la problematica? La problematica comune a molti mercati è che di solito le persone che devono spostarsi da una sede impropria a una sede propria fanno tutta una serie di difficoltà perché oggi la loro clientela sta nell'attuale sede. Quindi sicuramente essendo stati completati i lavori potrebbero entrare nei box del nuovo mercato che è stato realizzato ma probabilmente non lo vogliono fare adducendo una serie di ragioni tra le quali ad esempio che la pavimentazione non è adeguata. Insomma è stato stimato che questi lavori siano di entità irrisoria e a fronte in analogia con altri mercati è stato fatto presente agli operatori che non si può reiterare avendo Roma Capitale speso molti soldi per poter realizzare questi mercati il loro ingresso all'interno del mercato. Quindi io so notizia della scorsa settimana perché questa è una mozione calendarizzata già da un po' di tempo insomma che dovevano essere incontrati per la seconda volta gli operatori proponendogli un'assegnazione all'interno del mercato e mi dispiace dirlo non sarebbe stata accettata poi un diniego ma sarebbe stata poi formalizzata da parte del municipio un'assegnazione d'ufficio proprio per evitare i ritardi che si sono accumulati in questo senso. Quindi si sta procedendo al municipio per l'assegnazione dei banchi e quindi la problematica si sta già seguendo la mozione per noi non ha luogo a procedere quindi voteremo contrario qualora la consigliera Celli non decidesse di ridiarla. Grazie.